ah bene ciao benissimo adesso funziona a quanto pare funziona anche in modo abbastanza semplice e veloce non c'è molto da toccare per avviarlo e a me è partito tutto immediatamente quindi non ho dovuto fare niente per rispondere dei link esattamente sì sì adesso vediamo come come procedono appena fatto la prova staccare il la finestrina piccola dalla finestra principale ad un'altra del browser e si va si va perfettamente tra l'altro anche quando torna alla finestra principale si può tranquillamente continuare a scrivere mail mentre accanto continua andare avanti la video c'è quindi magari mentre si si parla si scrivono due righe dopo si manda l'email con il riassunto o il verbale diciamo della riunione e via tutto in contemporanea insomma sarebbe stato avere 3.000 cose aperte a presto ciao ciao